E continuiamo il nostro stare insieme in questa mattinata come detto in apertura vogliamo aprire una finestra relativa alla famiglia, al tema grandissimo della famiglia lo vogliamo fare con il presidente del forum delle associazioni familiari Adriano Bordignone, buongiorno presidente, bentrovato, grazie per essere con noi Buongiorno Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti quelli che stanno seguendo Presidente, sembrano frasi che ci siamo già detti, concetti già espressi però importanti da ribadire Quanto è importante investire sulla famiglia per il bene comune, per il bene del paese? La famiglia è una di quelle cose che diamo per scontati fino a quando poi ci accorgiamo che manca che è in difficoltà, che è complessa Un po' come l'aria buona, un po' come l'acqua in estate Ecco, in questa stagione ci accorgiamo che l'aria è inquinata, che si respira male In estate ci accorgeremo sempre di più che manca l'acqua nelle nostre falde E' composta accadendo per la famiglia L'abbiamo sempre data per scontata E non ci siamo resi conto che invece, come dice la nostra Costituzione Ma anche come dice la dichiarazione di diritti dell'uomo È la cellula fondamentale per la nostra società È strategica e fondamentale per tanti aspetti Gli aspetti relazionali Perché il sistema famiglia è dove noi impariamo a stare al mondo A principiare la partecipazione alla democrazia Alla cura del bene comune Ma è anche il luogo della solidarietà Dell'incontro tra i generi, tra le generazioni Addirittura agli stirpi È il luogo di supporto dei più fragili Degli anziani, dei piccoli, dei disabili Ma è anche il luogo di produzione della ricchezza Dell'economia Perché sappiamo che la maggior parte delle imprese italiane Sono a conduzione familiare E è anche il luogo dove noi cominciamo a prenderci cura dell'altro Della scuola, del quartiere, del comune, della città Della regione e della politica Ecco, è un bene straordinario Che però sta vivendo una complessità Perché è stato troppo a lungo dimenticato Presidente, il forum rappresenta una storia straordinaria Un contenitore, potremmo definirlo così Di famiglie che vogliono essere protagoniste Ma protagoniste nel senso davvero responsabile del termine Perché bisogna fare dell'Italia Bisogna farlo attraverso ovviamente anche con le famiglie Un luogo sempre migliore dove vivere Allora, quello che le vorrei chiedere Quali sono le sfide che il forum che lei presiede Deve affrontare in questo momento storico davvero così particolare Fatto di cambiamenti minuto per minuto? C'è una questione centrale sulla quale ci stiamo muovendo E stiamo combattendo da alcuni anni È la questione demografica Lo stiamo facendo per due aspetti principali Il primo è perché il calo demografico Il calo delle natalità in Italia è il sintomo di un malessere Di una fatica che le famiglie da lungo tempo stanno sperimentando E che si trasforma, si evidenzia proprio in un crollo un po' della speranza E della capacità di mettere il rischio della nuova vita Che ogni famiglia può accogliere di fronte come sfida possibile Questo da un lato quindi è una cartina di tornasole di una fatica Che le famiglie italiane vivono Dall'altro lato è una questione strutturale per il presente e per il futuro del paese Noi sappiamo e gli indicatori già ce lo mostrano Anche l'esperienza empirica Che il calo della natalità sta portando alla chiusura di scuole Sta portando all'abbandono di terre nelle zone interne Nel sud del paese, nelle isole Sta portando a uno squilibrio nel sistema sanitario Che è già in parte in una fase di compromesso E quindi vediamo a rischio la sostenibilità del sistema sanitario del nostro paese Che è straordinario Ma il sistema delle pensioni fondato sulla solidarietà intergenerazionale Trova delle complessità In tutte le aree produttive del paese C'è un problema di trovare i lavoratori E quindi sappiamo che il destino è segnato Se non interveniamo in modo significativo Anzi in modo potente Perché le piccole correzioni non sono sufficienti Lei da sempre è impegnato nel terzo settore Nel mondo dell'associazionismo familiare Ecco sul campo che cosa ha potuto constatare Ma aggiungere anche imparare in questi anni Beh questa tensione, questo desiderio di stare insieme agli altri È una cosa che è inattiva per la mia famiglia d'origine È uno dei patrimoni, una delle eredità che i miei genitori mi hanno lasciato È una cosa che con mia moglie abbiamo condiviso Noi reputiamo, ma per esperienza non per teoria Che ogni famiglia si nutra in modo importante dalle relazioni Dalle relazioni di prossimità, di vicinanza In una onda, in un allargarsi che cresce sempre più Allora l'idea è quella di farsi responsabili insieme agli altri E questo insieme agli altri è fondamentale Perché vi siano ancora dei contesti sociali, relazionali, economici Che siano generativi Di questo ne va del futuro delle nuove generazioni Di cui insomma ci sentiamo fortemente e appassionatamente responsabili Purtroppo Presidente dobbiamo registrare un dato che è negativo Lo riportano un po' tante ricerche, tanti studi Il fatto che le famiglie siano sole, lo sentiamo ripetere davvero Potremmo dire in tutte le salse Perché le famiglie non sono supportate, non sono valorizzate E poi tutto questo ricade su quell'inverno demografico Che stiamo già vivendo Non è una realtà che dobbiamo aspettare Ma è presente in mezzo a noi Allora quello che le vorrei chiedere In che modo si può contrastare la solitudine delle famiglie E far sì che si possa anche in qualche maniera fare rete E mettere a sistema quella che è la ricchezza Dei nostri nuclei familiari Lei ha toccato un tasto giusto Viviamo in un'epoca in cui le famiglie vivono Delle complessità economiche, organizzative, gestionali Ma a fondo di questo c'è una complessità che acquisisce tutto questo Il tema della solitudine sta accompagnando sempre più spesso La storia delle famiglie lungo il ciclo di vita Certamente viviamo più a lungo E le famiglie di anziani vivono più a lungo Ma sperimentano la solitudine in questo senso Certamente anche questo avviene In le prime fasi di vita della coppia Quando c'è un nuovo nato che arriva in famiglia La rete di prossimità, la rete familiare che esisteva prima Oggi non è più scontata E ci sono fenomeni in cui soprattutto le madri si sentono sole In difficoltà di fronte a questa complessità Ma è una solitudine che poi si vive anche in fase successiva Nella fase educativa con i bambini, con gli adolescenti Tutta la questione dell'educazione dei giovani Anche dell'accesso e dell'utilizzo dei social per esempio È una questione che tante famiglie si pongono Ma poi non arrivano a dare delle risposte di comunità Ecco, l'idea di affrontare insieme le complessità della vita Ci dice che già questo è un percorso di bene comune Al di là degli esiti e degli obiettivi che raggiungeremo È una chiave di volta per ripensare il nostro paese Affinché sia ancora bello nascere, crescere, diventare adulti E invecchiare questo territorio che è fatto di comunità E non solo di opportunità Qualcosa è emerso già dalle sue parole Però le chiedo di sintetizzarci le vostre richieste al mondo della politica Che poi sono le richieste di tutti Appunto a sostegno dei nuclei familiari Sì, la prima proposta è una proposta di stesso L'idea è di chiedere a chi governa i processi a livello nazionale Ma anche a livello territoriale, anche a livello operativo e lavorativo Di indossare gli occhiali della famiglia Molto spesso la famiglia vive di un'osservazione miope e sfocata Viene vista o come luogo dei problemi Perché all'attenzione non emerge mai come opportunità Ma questo avviene sia nel mondo della società civile Ma anche per esempio nel mondo della Chiesa Tant'è che Papa Francesco ai Vescovi americani Ha dovuto ribadire Non osservate le famiglie come luogo dei problemi Ma come una splendida opportunità e un bene per la Chiesa Questo vale anche per la società civile Questo è il primo punto di vista Il secondo aspetto è che la famiglia mai viene vista Come un sistema di relazioni e di rapporti Ma solo come un aggregato di persone I servizi lo fanno abitualmente Il sistema pubblico lo fa comunque stabilmente E il terzo aspetto di carattere organizzativo È che le politiche per la famiglia Sono spesso confuse con le politiche di lotta alla povertà Perché sappiamo che per ogni provvedimento Che riguarda la famiglia viene richiesto per esempio l'ISEE Mentre per quanto riguarda i vari bonus facciati Il 110% I bonus per i veicoli elettrici Mai viene chiesto di che famiglia fai parte Quanti figli hai E quante case hai Questo è un problema strutturale Dentro questo abbiamo una serie di proposte Alcune di carattere monetario Di trasferimento monetario Abbiamo in attesa la riforma fiscale E noi proponiamo il quoziente familiare come modello Che finalmente rispetti l'articolo 53 della Costituzione E che abbia un'imposizione fiscale Che consideri la composizione del nucleo familiare La numerosità dei figli E la presenza di fragili anziani nel nucleo familiare Dall'altro lato abbiamo l'assegno unico Che è il primo strumento strutturale di politiche familiari Che non va lasciato languire ma va potenziato E è reso più semplice di accesso E abbiamo proprio in questi giorni accordato Con il Ministero del Lavoro e il Ministero del MEF Un lavoro, una roadmap per la riforma dell'ISEE Poi operativamente dobbiamo agire su due soggetti principali Donne e giovani Perché vengono riconosciuti nella loro dignità E nella loro potenzialità Lavorative, economiche, relazionali Di partecipazione alla vita del Paese E abbiamo tutta una serie di proposte in questo senso C'è poi la questione del lavoro Che deve essere un lavoro dignitoso Che allarghi sempre più l'accesso alle persone Ma sia un lavoro che permetta a ognuno di noi Di avere una continuità di vita e di lavoro E non vi sia una cesura, una separazione Che poi magari è a svantaggio delle relazioni familiari Quindi un lavoro dignitoso Adeguatamente remunerato Con politiche organizzative di welfare Che riconoscano la significatività dei carichi familiari E a fianco a questo servono servizi territoriali Le famiglie hanno bisogno di servizi E laddove non ci sono servizi Nascono meno bambini O i giovani e le famiglie si spostano In altre parti del Paese o d'Europa C'è tanto lavoro da fare Insomma Cercare di racchiuderlo in pochi minuti È complicato E allora Presidente Noi siamo sempre a disposizione del forum Ovviamente per le vostre iniziative Anche per tenere alto lo sguardo sulla famiglia Perché basta poco davvero Per un attimo in cui magari ci si lascia sfuggire Un argomento che subito poi magari la famiglia Viene in qualche maniera messa in secondo piano Questo non deve accadere E noi siamo pronti davvero a sostenere in qualche maniera Attraverso la nostra attività editoriale Il tema della famiglia E nel frattempo la ringraziamo per essere stato con noi Grazie Grazie Vi auguriamo buon lavoro E anche noi continuiamo con grande entusiasmo E la sfida grande non ci spaventa Assolutamente Grazie, buon lavoro Grazie Grazie Presidente Ringraziamo Adriano Bordignone Presidente del forum delle associazioni familiari Ora andiamo in pubblicità